Il sole, il sole, la montagna partorisce ogni giorno il sole. I raggi del sole bruciano le pietre, baciano l'anima delle persone sedute nella sabbia, esprimono un desiderio, un sogno o un pensiero fino a arrivare al cuore. I raggi possono riscaldare il diamante. Il diamante ha lo stato puro, grezzo e semplice, diventano lo specchio della luce. Non è giudizio, solo consapevolezza. Grazie per la visione!